Il design dà veramente valore alle persone e può cambiare davvero la nostra vita, non per forza nelle grandi cose, ma nelle piccole cose di tutti i giorni. L'opportunità di fare in modo che dei veri talenti possano parlare di sclerosi multipla ad un grande pubblico. Avere maggior consapevolezza in merito alle persone che devono convivere con questa malattia per ridurre nel gap la distanza tra questi due mondi. La design marathon è una cosa d'ostacolo, l'ostacolo è il tempo, l'ostacolo è la stanchezza, ma allo stesso tempo le motivazioni, l'energia di lavorare insieme è straordinaria. È un'esperienza super professionalizzante ed è anche la dimostrazione che grande pressione a volte genera grandi idee inaspettate. Per me è stato veramente interessante perché lavorare su un argomento così delicato era veramente una nuova esperienza. È stato divertente ragionare in termini diversi da quelli a cui siamo abituati di solito. Perché anche noi, anche se siamo da tanti anni nel mercato, anche noi vogliamo imparare, vogliamo provare a fare cose nuove per essere di fianco anche alle persone che a oggi vivono con la sclerosi multipla. Il primo premio va al gruppo Effetti Collaterali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.